le riforme della sanità, questo pezzo invece è stato scritto nell'era Clinton quando lui si faceva fare mugoloni da Monica Levischi, questo pezzo si chiama ma loro sono avanti perché l'ameriane alla fine a noi ci garba tutto quello che l'ameriane hanno fatto contro l'ameria e non c'è meno di altro, dio le alzate no potevi anche dire altre cose ma per la sintesi questo è un barcerino, un barcerino in tre questa canzone parla dello stato ameriano in tutto il suo complesso di fenomeno mondano ne parla in uno stile certo po' gentile ma che sia un ridio lì forte per me che si può dire ma loro sono avanti, sono andati sulla luna ma di tende delle indiane e un ce n'è rimasta una ma loro sono avanti, si uri della sorte di chi aspetta per dell'anni la pena di morte sedie elettri e fucilazione anche l'impiccagione è roba da non credici, pare un firme di leone c'hanno punti, grattacieli, miraoli d'architetti, poi danno le pistole in mano anche a bimbetti fitness, stretching e bodybuilding sono temi a loro cari ma va a cercare via l'america e trovi solo dei segnali mangiansela per mostarda, pollo fritto e marmellata non si può nel paragone cormi pane soppressata ma loro sono avanti in tutti quanti i campi la merriere paradiso della torriette cantante con l'effetto digitale il titanic e vadrini e noi che siamo indietro con totò e con fellini ma loro sono avanti e chi è dietro di siuro per la legge naturale e glielo può buttare e dietro è dietro eh ma i bimbi non ci sono bimbi via ma si lascia ossi vai via ma lasciamo la ossi via vai via 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 via